Abbiamo progettato un'installazione per l'azienda Elica all'interno del cortile della statale. Il progetto si basa su due idee fondamentali, da una parte l'idea della casa, l'idea di uno spazio quindi che accoglie, che invita ad entrare al proprio interno e al proprio interno raccontare l'identità e il cuore dell'azienda. La seconda idea si basa sul principio del ribaltamento e dunque l'idea di una ottica nuova di immaginare l'ambiente domestico e gli strumenti necessari appunto alla vita della cucina. Noi abbiamo immaginato una struttura costruita a partire dalle geometrie del luogo ed è costruita in materiale riflettente e quindi tutto lo spazio interno, questa sorta di caverna, è piena delle immagini ribaltate che sono proiettate sul pavimento. Questo fa sì che tu hai un'esperienza tridimensionale.